Le sorgenti calabresi si stanno sempre più prosciugando, tanto che la loro portata idrica è calata del 50%. Un'emergenza che aveva già mostrato i suoi effetti la scorsa estate, con rubinetta a secco in molti paesi e ordinanza di chiusura idrica nelle ore notturne. Ma la stagione iniziata non fa presagire nulla di buono. Anzi, a detta dell'amministratore unico della Sorica, Alcataldo Calabretta, l'estate 2024 sarà difficile. Gli stravolgimenti climatici hanno avuto ripercussioni negative anche sulla nostra regione, che come il resto del sud ha iniziato il ciclo di desertificazione. Poche piogge, scarsa neve quest'inverno. È mancata proprio la sostanza agli invasi, alle sorgenti e ai fiumi, quasi in secca. I numeri forniti dalla Sorica sono impietosi. Sulla Spromonte, la diga del Menta rispetta la sua massima capacità a un volume di invaso del 47,7%. Un regresso spaventoso, se si pensa che lo scorso anno era all'85% e due anni fa al 92% della massima capacità. Cali importanti registrano le sorgenti nel Regino, che alimentano diverse località della provincia, con riduzioni idriche che variano dal 30 al 50%. Non va meglio nelle altre province calabresi. Ad esempio a Cosenza il fiume Trionto, dal quale Sorical preleva l'acqua per il potalizzatore, è in sofferenza idrica. La produzione dai 100 litri al secondo è scesa a 50. Unica eccezione al momento gli acquedotti dell'atto terreno cosentino e della zona del Pollino, che stanno reggendo all'impatto delle alte temperature. In campo azioni e tavoli tecnici tra gli organi preposti per agginare questa emergenza. Intanto la Sorical rimarca la necessità di ridurre i prelievi per garantire la produzione di acqua potabile fino al prossimo autunno, suggerendo ai comuni la chiusura notturna degli impianti. Così come costanti devono essere i monitoraggi per l'uso improprio dell'acqua e incisivi devono essere la sensibilità e il rispetto di tutti nell'evitare gli sprechi. Grazie a tutti.